E niente, Insegne, Insegne ha fatto buono, un 11 voli una lanna e giustamente chi è che insegne va all'Italia? Insegne andando a Toronto ha fatto una scelta senza dubbio eccentrica, anomala, troverà una città magnifica, dall'alta qualità della vita, con tantissimi italiani, si sentirà veramente a casa e forse avrà anche un po' più di privacy rispetto a quella che magari riesce a trovare in Italia, sì perché il Canada è una nazione di hockey e il calcio non è così diffuso, basta guardare i risultati della Nazionale di Calcio canadese, anche se poi c'è un forte progetto di bilancio per i prossimi mondiali che ci saranno negli Stati Uniti e in Canada. E niente, Insegne, Insegne ha fatto buono, vai giù, 11 voli una lanna e giustamente chi è che insegne va all'Italia? Ovviamente mi dispiace che si sia andata da Napoli, ma sono felice che non è andata in un'altra squadra italiana, si è ritirato dal calcio giocato forse troppo presto a questi livelli per andare a suo buon retiro, però insomma gli auguro il meglio che c'è per la sua carriera. Il Presidente non ha voluto rinnovare il contratto per 5 milioni, come si diceva, è... un po' lì una lanna, un po' lì una lanna, un po' lì un po' è rimasto, insomma è fatto buono, un po' l'età e questo è tutto da New York City, sempre Forza Napoli. Grazie. Grazie.